4 per signorini il telefono è da disperare senza rifiare Francesco il telefono è da disperare io sono a Gesù Cristo una volta che è successo? mi sono a cair una volta figlio mio ma che è successo? è non ripetibile adesso sta in campo non glielo posso chiedere ho chiesto solo a Gesù Cristo se una volta mi vede non sono neanche piccolino lasciamo perdere Simone c'è la Mesa c'è la Mesa c'è la Mesa c'è la Mesa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.